Sempre calcio mercato, dicevamo appunto di Chiarella, destinato al Catania, Blanuta per Blanuta, pista estera, probabilmente una possibilità in Romania per il classe 2002, restano fuori lista D'Aloia, Rassi e Madonna. Le ultime in vista di Pescaravellino, partita in programma domenica sera alle ore 20.30, il debutto dei Biancazzurri, si affronteranno due squadre quasi completamente rinnovate, intanto gli squalificati, Trotta, un ritorno nell'Avellino, ultimo giorno di mercato, Trotta squalificato, stessa cosa dicasi per Aloy, comunque ai margini per infortunio, Aloy l'ex di questa partita, uno degli ex, resterà ancora ai margini per circa 15-20 giorni. Colombo si affiderà al 4-3-3, 4-3-2-1, che dir si voglia, probabile formazione, domani comunque la seduta di rifinitura, subito dopo la conferenza stampa del tecnico Biancazzurro, Plizzari tre pali, Cancellotti in grosso, Pellacani e Milani in difesa, centrocappo Germinario, Palmiero e Mora davanti delle Monache, Cupone a supporto di Lescano. Per quanto riguarda invece l'Avellino, fuori lista, Sbraga, il portiere forte, l'ex Gennaro Scognamiglio, l'altro ex Pippo Riccardo Maniero, ingaggiato dalla Turris, terminata l'esperienza ad Avellino per Pippo Riccardo Maniero, sarebbe stato un ex del prossimo confronto, il confronto imminente all'Adriatico, il probabile 11-3-4-3, il sistema di gioco che sarà disegnato dal neotecnico Roberto Taurino, Marcone tre pali, i Gianess, altro ex Aia e Auriletto a comporre il trio di centrali di difesa, Ricciardi e Micoschi sulle fasce, in mezzo al campo Franco e dall'Oglio davanti Canutè, Murano e Di Gaudio, ma c'è ancora qualche dubbio che sarà sciolto dal tecnico dell'Avellino appunto nel corso della seduta di rifinitura. In programma domani mattina intorno alle 12.15 parlerà il tecnico degli Irpini.